Ciao a tutti ragazzi, qui sono Giustro Zasti e oggi sono qui a portarvi una nuova serie che sarà la top 5 dei gol più belli su YouTube Italia. In quinta posizione troviamo il gol di Giastron con Bolasi nella sua serie FIFA A Obiettivi. Sì è così Bolasi, è tutto uno scatto regà, è incredibile, guardate come si ferma il gioco. Vabbè dai, poi Bolasi intanto li impuffa tutti, boom, che è il gol di Bolasi? Quanta posizione troviamo il gol di Capo di Square, contro Fazio nel torneo Meragodo. In terza posizione ragazzi invece troviamo il gol di Exet nel suo rotto di Vision One con Tevez. In seconda posizione invece troviamo il gol di qualche giorno di Joker, anche lui nel suo rotto di Vision One con Wolcott. Invece ragazzi nella prima posizione troviamo il gol più articolo di sempre, il gol di Dredd ragazzi. E con quel gol ragazzi rimarrà nella storia dei secoli di FIFA, bellissimo, un gol di tacco bellissimo. Ma c'è una skill! Ehi, fire! Ma è il gol! O più che l'gole! ZAPATA! Chiudete YouTube! Chiudete internet! Chiudete FIFA! Chiudete i server! Finisce qui! Finisce FIFA! Finisce tutto! Finito tutto! Qualse sen Cara è finito! Finito tutto! Chiudetelo! Chiudete tutto! Ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un like, un commento se vuoi vi iscrivetevi al canale e vedete tutto, bella!